Ma come deve raccogliere solo di riso? Di messerlo va? L'italia fuciva a fare. L'italia? L'italia fuciva. L'italia fuciva a fare. L'italia fuciva a fare. Anā殿ckamata wōkozū what kāmu e sissi ibnama u farmak activa yo te rodo. Wei! Cada mō y essi. Diwali Makakamat kānanutu … Grazie a tutti. Grazie a tutti.